Arturo Giannacone, segretario nazionale del partito Noi Sud, il terzo attentato subito nel corso di questa campagna elettorale? Sì, sono episodi molto gravi che segnalano che contro di noi sta montando da parte di qualcuno un clima di ostilità, di odio. Evidentemente l'idea di un grande partito del sud alleato con il centro-destra sta suscitando la reazione di elementi violenti. Noi abbiamo chiesto a questore di assicurare la serena continuazione, il sereno svolgimento della campagna elettorale e di mettere i nostri candidati nella condizione di non dover subire più intimidazioni ed aggressioni.